ciao allora sì lo so ho sospetto che prima o poi ve lo aspettavate un video del genere da il make up di wish ma ho trovato e ho provato e ho testato delle cose davvero interessanti e ve ne voglio assolutamente parlare allora ho fatto un po la selezione di tutto il make up che secondo me vale la pena di provare su wish prima di tutto ho segnato tutto perché sennò col cavolo che mi ricordavo ma tutti i prodotti che vi mostro costavano un euro più un euro di spedizione quindi io li prendevo sempre con lo sconto di almeno il 10 per cento quindi 0 86 più un euro di spedizione un euro 86 e capiamo che un euro e 86 allora il primo prodotto giro pagina che assolutamente vi devo mostrare ma prima di tutto voglio sapere da voi se questo video vi è incuriosito e lasciatemi un commento qui sotto perché sapete che se siete iscritti al mio canale e mi lasciate un commento periodicamente estraggo un premio e dei tre commenti e riceverete qualcosina da me e sono sempre cose abbastanza interessanti se non sapete di cosa parlo andate alla fine del video per scoprirlo allora primo prodotto di cui vi voglio parlare per me questo è un wow è questo della bioacqua è il pur skin acne e revitalization cream ok è un trattamento per le imperfezioni della bioacqua e la quantità è un 30 grammi quindi un euro 86 per 30 grammi l'ho cercato perché la bioacqua è un marco abbastanza conosciuto e su amazon costa 7 euro e 60 capito la differenza il prodotto è lo stesso allora io questo che è proprio un gel da mettere col beccuccio sulle imperfezioni localizzate io questo lo compro lo ricompro ne ho provati altri ma torno sempre a lui mi piace tantissimo allora è super efficace intanto funziona davvero benissimo perché l'applicate è un gel qui ne so e si asciuga velocemente solo su imperfezione non è che la faccia scomparire ma l'aiuta a fa schifo maturare più velocemente quindi il processo c'è avete sul viso un qualcosa meno per meno tempo perché il processo è più veloce fantastico funziona fa la stessa cosa di tanti prodotti in commercio però lui costa meno ed è delicato sulla pelle non la fa rossare non brucia ottimo quindi davvero se dategli un'occasione perché davvero è fantastico e mi piace tantissimo poi da brava amante del make up non potevo non provare anche un primer per il viso questo è il all matte pore invisible face primer della 6 lady scusate questo qui è piccolino con la quantità è un 6 ml e abbiamo letto che costa sempre un euro e 86 e dice di andare ad opacizzare il viso e a ridurre i pori comunque era piccino però vi dico che 6 ml sono durati tanto perché sì è un primer siliconico si sente che a base di silicone ma come tutti i primers o vediamo un premio naturale oppure tutti i primers in commercio sono siliconici è inutile questa la testa stessa texture fantastico pochissimo prodotto lo applico sulla zona t mi fa durare il trucco tutto il giorno e davvero va davvero ed è mi rende più pacca la pelle e me la fa usci dare meno velocemente quindi davvero questo è la tenere in considerazione non fa spuntare in perfezioni non ne occlude troppo funziona come gli altri primer né più né meno però costa meno e poi comodo anche da portare il zip in borsetta o in viaggio ma davvero dura tanto ma tantissimo ottimo assolutamente stra promosso mentre andiamo avanti e ve ne mostro uno ma ci sono di tantissime altre tonalità è il correttore CC color questa è le corrector dark spot dark spot sì esatto la quantità è un 3,2 grammi ed è questo qui che è un matitone ok quindi è automatico ed è pratico e comodo allora intanto e dice di essere dark spot quindi per le imperfezioni no per le imperfezioni no perché è troppo pastoso quindi tende ed è con l'imperfezione che è calda tende a sciogliersi ma per le macchie del viso per esempio lo metto sul naso sul contorno occhi poi fissato con la cipria si copre ad avere una buona coprenza e funziona a qual la cipria ovviamente e attenzione sul contorno occhi però perché essendo così pastoso o ne applicate poco e lo sfumate bene con una spugnetta o tende un pochino ad andare nelle pieghette sempre fissare con la cipria unica cosa appena aperto ma questa è una cosa appena aperto adesso non si sente quasi più è profumatissimo che si sente davvero il profumo ma le prime applicazioni si sente poi non si sente più quindi è una cosa che va oppure lo tenete aperto per un po senza tappo e vedete che il profumo va via e sì ok ho trovato anche di meglio però il fatto è che c'è in tante colorazioni quindi c'è anche quella più rosata quella più salmone per i contorno occhi quella verde quella gialla quindi davvero è un sì sì color corrector che effettivamente è in tante tonalità ma adesso io direi di passare alla mia vera passione che sono le ciprie e qui ho tanto da dirvi allora non posso aspettare devo farvela vedere assolutamente la mia cipria preferita ma la preferita in assoluto che vi ho fatto vedere lo swatch vi faccio vedere perché qui ovviamente è completamente finita comunque è questa della l'ideal dice di essere aloe vera 99% questo non so dirvi se è davvero vero e quando ha polvere ok ed è in tre colorazioni io uso la 02 che è quella di mezzo ce n'è una più chiara e una più scura allora intanto il profumo voi dovete annusarla annusarla cioè è la prima volta che l'ho aperta e l'ho annusata è stato un passo un salto indietro nel tempo cioè proprio e poi ogni volta che la uso io la annuserei per ore perché mi ricorda ma non tantissimo uguale uguale a una cipria che qui andiamo un momento remember ma identica come odore a un profumo a una cipria che usava mia nonna e sono andata su google l'ho cercata l'ho cercata l'ho cercata e ho trovato che è la cipria della debora quella non so dovete essere degli anni 80 e 90 per ricordarvela proprio nella confezione così semplicissima che si chiude con le così rossa della debora stesso profumo di talco cioè un salto indietro dei ricordi che è una cosa spettacolare e ogni volta che l'annuso me lo ricorda c'è proprio wow però oltre profumo che già è un salto nel tempo che varrebbe solo per quello è una cipria fantastica ma fantastica intanto è perfetta per fare il baking per i contornocchi per fissare il trucco per fissare e anche tutto il trucco del viso se non ricordo male viene venduta con una spugnetta che io ho perso subito ma non importa le spugnetta le perdo il lattice se non sbaglio comunque sia ve lo so dire perché ne ho comprate altre confezioni e continuo ad utilizzarla e quindi magari un'altra confezione ancora chiusa c'è e che dirvi è la cipria per l'eccellenza di quello che io voglio è davvero una cipria che opacizza e che fissa il make up questa fissa il make up alla perfezione opacizza tantissimo non fa strato è polverosa come una cipria non fa strato non rende il viso farinoso naturale ma opacizza tantissimo fissa il trucco non si sposta bellissima fantastica costa niente davvero cioè per me è la cipria migliore posso dire migliore in assoluto che ho mai provato ecco e che da adesso in poi sì se ci sono delle novità provo delle altre ma lei vi faccio vedere una clip che ho comprato ricomprato e faccio scorta perché è la mia cipria se avete la pelle mista o grassa tenete a truccarvi e non volete che il trucco si sposti durante il giorno questa è la cipria ottima anche per i ritocchi ad esempio dei contornocchi perché con il leggero colore che ha va a piallare la zona dei contornocchi cioè da provare ma è fantastica ma ovviamente ne ho volute provare delle altre perché non è l'unica cipria ovviamente che hanno e ora vi mostro questa che che anche lei anche lei funziona è la Luxury Powder polvere di luce questa è un 42 grammi anche questa è in varie colorazioni e quella che ho io è la 3 che avevo io l'unica cosa interessante da guardare è gli ingredienti perché dice di avere talco mica e silica quindi credo che sia anche un ottimo inci allora di queste comunque vedete la clip questa qui come potete immaginare è una cipria in polvere libera che si va a applicare mi piace anche questa allora io non adoro le cipria in polvere libera per il semplice fatto che ogni volta che la uso sono talmente polverose che dopo devo andare a pulire tutto il piano del make up però fa egregiamente e dico egregiamente il suo lavoro e non costa niente poi oltretutto vi ho detto che è un 42 grammi quindi ce n'è davvero tanta è leggera impalpabile non rende il viso farinoso fissa benissimo il make up si può applicare anche per fare il baking su contorno occhi fantastica anche per i ritocchi funziona benissimo non è pratica per il via della confezione ma davvero funziona benissimo se devo trovargli una pecca proprio l'unica pecca è il tappino dove vado a mettere la cipria che è piccino e quindi faccio un po' fatica con il pennello andarla a prendere però è l'unica pecca che gli posso trovare davvero validissima anche questa è assolutamente secondo me da provare e finiamo con l'ultima che è questa la cipria by nanda non fate domande è loose power si è sempre quindi in polvere libera cercavo la quantità ecco in questa non c'è la quantità benissimo e non c'è la quantità però già si vede e non c'è neanche sul sito secondo me già si vede che è più piccina di questa allora però questa è più completa se passa se passa il suo prezzo perché questa è confezione ha il suo applicatore anche carino la spugnetta applicatore ecco che è la prima cosa che io ho buttato direttamente anche il tappo dove andiamo a applicare la cipria è più grande quindi comodo per il pennello è più è più completa a livello di cipria perché ha la spugnetta ha la parte più grande rispetto a questa ma qui ce n'è meno però come polvere secondo me è la stessa secondo me è la stessa polvere di questa messa qui dentro perché mi trovo uguale quindi ottima ed è impalpabile leggermente colorata che fissa lungo semplicemente che questa è più più completa questa è molto rustica proprio si vede un barattolino però io guardo come funziona questa è più completa come confezione come presentazione però io credo che la polvere sia la stessa perché identica sia la profumazione che come si comporta che si comporta benissimo quindi è solo fatto di ce n'è meno perché secondo me no non c'è scritto più niente ce n'è meno ma è più completa scusatemi io continuo a comprare questa anche se la mi preferite quella compatta e lo sapete allora questi erano gli unici prodotti per il trucco che non sono le palette perché le palette ve ne ho parlato a parte che anche lì molto molto valide di wish che secondo me vale la pena provare almeno una volta se non avete esigenze particolari oppure se non siete schizzinose dire oddio viene da wish perché vale la pena e poi trovate prodotti come questo o come il primer che dite ma perché io devo pagare 30 euro un primer quando non faccio marchi però 29,90 un primer che è identico uguale a questo ecco differenza comunque sia adesso voglio sapere le vostre opinioni e quale prodotto vi è inquisito di più oppure se qualcuno l'avete provato chissà io spero che sia utile e vi faccio scoprire tante cose nuove al prossimo video ciao ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estrago ogni mese ciao ciao